Adesso succede che l'Inps perfeziona il modulo questionario che dovremo somministrare alle persone senza dimora. Formeremo gli operatori delle unità mobili e anche dei servizi del terzo settore del volontariato con cui collaboriamo perché possiamo raggiungere in via preliminare il maggior numero di persone possibili. Quindi attiveremo la compilazione del questionario tanto in strada quanto presso i servizi che con noi collaborano quindi i drop-in, le menze, i punti doccia e anche chiaramente il punto doccia di ristoro di via Tanucci che è di pertinenza diretta del comune di Napoli. Proprio questa struttura verrà invece individuata per il passaggio successivo, vale a dire il contatto che ci sarà poi diretto fra l'utente e la struttura proprio Inps e il funzionario dell'Inps che dovrà valutare la sua pratica. Chiaramente il funzionario è una scrematura, è una conoscenza del fenomeno ed è anche lo strumento per individuare chi effettivamente ha necessità di fruire di un servizio Inps, da radio di cittadinanza alla pensione di invalidità o alla pensione sociale. Quindi anche un povero senza dimora potrà accedere grazie a questo accordo con la radio di cittadinanza? Certo, se ne hai requisiti assolutamente. Certo, se ne hai requisiti assolutamente.